Dalla Puglia al Vicentino via strada adriatica per assaltare i Bancomat. I carabinieri hanno messo fine al pendolarismo criminale di sei trasfertisti che a gennaio avevano messo a segno due colpi ad altrettanti sportelli bancari. Il primo ad Arzignano non riuscito e il secondo ad Altavilla dove il bottino è stato di circa 10.000 euro. A interrompere le loro, diciamo così, visite in terra berica è stato l'ultimo tentativo del 24 marzo. finito ad Altavilla con un conflitto a fuoco con i militari e un trasfertista ferito, Michele Liberti. Sono partiti da quel 24 marzo i carabinieri per ripercorrere a ritroso in maniera meticolosa le tracce della banda. Anche attraverso l'analisi dei video che varie telecamere avevano captato e con però sempre la regia fondamentale del fiuto investigativo. Dal modus operandi che si ripeteva all'inseguimento della Fiat Punto con targa bulgara alle 4 del mattino, dal ritrovamento della seconda auto, la Ford C-Max, al rinvenimento all'interno della cosiddetta marmotta. Il sistema con cui, con polvere piriche e una miccia, facevano saltare gli sportelli banco mattamente una trave in ferro faceva da ariete. Un sistema che ha portato gli inquirenti a inquadrare la banda. Le indagini hanno confortato, come temevamo, una fase di ideazione e progettazione importante da parte di queste persone, non un'improvvisazione del trasfertista che raggiunto un territorio nuovo prende e da qualche parte colpirà. Soggiornava in un albergo in zona, nel giro di 24 ore eseguivano il colpo, grazie anche a due di loro che conoscevano il territorio. Cinque ore dopo erano già rientrati in Puglia. Uno, Cataldo, addirittura via aereo in tempo per l'obbligo di firma nella caserma locale. Personaggi tutti e sei con vari precedenti. Due di loro, Liberti e Carlucci, addirittura affiniti agli onori dei Tg satirico di Striscia per truffe. Ora sono tutti in carcere, due a Lanciano e Pescara, gli altri a Foggia. Grazie. Grazie.